Non può essere data la possibilità ad un capo del governo per intervenire su quello che vuole quando vuole, perché questo non succede nella democrazia, diversa da tutti gli altri sistemi perché c'è l'opposizione, un elemento di equilibrio e pungolo, e quando sbaglia rafforza chi governa. Il direttore del Tg La Sette, Enrico Mentana, ha replicato così al comunicato diffuso ieri da Palazzo Chigi secondo cui il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa del 10 aprile scorso ha smentito vere e proprie fake news che rischiavano di alimentare divisioni nel paese e di danneggiarlo. Per quanto riguarda il MES, stiamo più dalla parte di Conte e ancora di più di Qualtieri che da quella di Salvini e Meloni, ha aggiunto ancora Mentana rispondendo a chi lo ha definito un traditore, venduto. Cari odiatori, da questo telegiornale Salvini è stato criticato qui con questa voce su migranti, ONG, Carola Rachete, 25 aprile, censimento dei Rom sui 49 milioni, su Savoini e la Russia, quando non era più ministro sulla citofonata di Bologna. Su molte di queste cose, quelli che ora attaccano sono stati zitti, o hanno approvato perché erano d'accordo o perché i loro beniamini erano alleati di governo, ha detto ancora Mentana.